Bella a tutti ragazzi, oggi facciamo questo video perché probabilmente alcuni di voi si saranno chiesti perché la Brother Steam non carica video ogni giorno come magari faceva una volta quindi oggi risponderemo proprio a questa domanda allora ragazzi come ben sapete la settimana dal 24 maggio al 29 maggio è proprio l'ultima settimana di scuola effettiva possiamo dire e penso che sia questo anche per voi che l'ultima settimana di maggio i professori, le maestre, insomma gli insegnanti bombardano di compiti, verifiche, interrogazioni quindi il povero alunno deve stare tutto il pomeriggio a studiare il nostro tempo quindi è diminuito e lo può dimostrare appunto anche questo dato assurdo cioè che negli ultimi 7 giorni abbiamo fatto il 187% in meno di coppe su Brawl Stars rispetto ai 7 giorni precedenti ciò significa che se prima facevamo 1000 coppe in 2 giorni adesso ne facciamo soltanto 200 cosa davvero terribile quindi purtroppo vi volevamo avvertire che questa settimana essendo appunto l'ultima settimana di scuola come video uscirà soltanto il sondaggio della domenica ovvero chi è il miglior broler repico? se non avete ancora risposto scrivetelo qui sotto nei commenti poi ripartiremo col botto la settimana prossima non essendoci più scuola quindi video ogni giorno scusateci davvero tanto buon proseguo a tutti buon proseguo a tutti